a fare macchina, perchè c'è una boccetta di vetro? ah ok l'ho trovata ok, buttiamo tutta sta roba allora ah, fatti l'armatura, è vero l'armatura, l'armatura si dai l'armatura, vai facciamocela di ferro, me la faccio di ferro? si si ok, già c'ho la canottiera ok, mettiamoci la canottiera mamma mia, guardate Peppa con la canottiera guardate Peppa con la canottiera ah, per tutti quelli che ok, che magari vorrebbero, come dire un Pepo con la testa di zombie oh shit, guarda Chip, stai guardando? stai guardando? ok mi sto scopando, tutte le persone che stanno guardando in live, oh shit, vieni qua oh shit, vieni qua oh shit, oh shit, perfetto, vabbè ieri non eravamo quanti siamo? quanti siamo? 800? 803 ok, sto scopando 803 persone oh shit, fuck me, oh tesoro mio, va ti voglio bene vieni qua ok, va bene, basta oddio, che ho premuto F9 no, non premete mai F9 altrimenti è un casino ok ci succede se premo F9? ho premuto F9 che sono questi raggi laser? eh, niente non lo so messa i chunk sono oh, sono i chunk oh, fantastico così posso vedere quanto quanto è grande un chunk fantastico ecco, se vedete la mia casa c'è tipo mille mila chunk è tipo fantastico ok eh, va bene no, non c'è un gruppo team cioè, che vuol dire? che vuol dire un gruppo team? no, non ho un gruppo team non so che vuol dire non ho un gruppo team allora, vediamo qua abbiamo della legna ma sì usiamo la legna ma sì ok ragazzi mi faccio le cose di ferro per farmi l'armatura mentre la testa di zombie me la levo e me la metto qua non mi ricordo ok fantastico eh, giusto per abbellire la casa no? mamma mia che bel tetto che bel tetto allora comunque se ne metto forse un giorno ciao Pempo sono l'ex ragazzo della tua amica Francesca ti ricordi? sono l'ex ragazzo della tua amica Francesca chi è Francesca? se ne so io e soprattutto cioè non conosco Francesca devo conoscere l'ex ragazzo oh come faccio? è impossibile della mia amica Francesca chi è? incredibile mentre piantiamo oh guarda la scala ok va bene sono andato a parte allora abbiamo detto fatti i primi macchinari va bene però per farmi i primi macchinari dovrei cuocere allora primi macchinari allora cominciamo dal generator allora partiamo subito allora generator di generator sono la tua ex ragazzo ti ricordi? eh sì proprio magari è scritto da uno che si chiama Pablito ok si chiama Ugo non mi esce generator perché non mi esce generator scusatemi eh ah non c'era gen geothermal generator 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 ok va bene allora si crafta con 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 allora quindi dicono di fare di continuare la casa eh no aspetta prima facciamoci un po' di corrente raga allora mi serve un iron furnace una batteria e per fare una batteria mi serve come si vede la batteria? eh no devi scriverlo re battery si fa con tre eh allora copper cable sopra ma perché non me lo clicca? cioè io clicco qua e non me lo dà c'è tutte le cose no lo devi scrivere sotto proprio nella barra sotto sotto re battery allora eccolo qua la re battery si mi serve della tin della tin e della redstone io non ho la redstone eh io te l'ho detto di prenderla prima lo so ma siccome sono troppo paxerello non l'ho preso ahhh svegniamo viviamo ahhh svegniamo allora va prendere il ora vado in caverna ora vado in caverna allora vediamo madonna che casino che ho che casino vabbè buttiamo tutto quanto allora con ho del ferrocotto si quattro allora con sette mi posso fare mi pare pantaloni perfetto pantaloni allora mettiamoci pure i pantaloni così finalmente sembra un uomo vestito mettiamo a cuocere la carne dovrei avere qui della carne già cotta ok ho i pollicotti ma meno male ok e niente ragazzi adesso andiamo in caverna a raccogliere il diamante puoi dormire solo di notte lo so ma non volevo dormire infatti io stupido stupid dog ci mancava pure il whister allora nel mentre tipo se mettiamo a cuocere allora 12 3.000 rotellina quando stai con la cesta aperta che almeno ti aspetto un attimo ti aspetto un attimo perché qui c'è il whiter bloom qua sì vabbè vabbè dai ma non è giusto cioè mi devono rompere le palle cioè l'unico posto dove mi do mi potevo fare casa capito l'ho fatto vicino a un dungeon di whister ma dov'è sto dungeon qualcuno cioè come faccio a trovare sto dungeon perdonatemi eh cioè non c'è un cazzo l'hai trovato nel scorso live no non era un dungeon era il bug visiver allora è l'aria negativa che è della tua della come l'aria negativa sì c'è l'aria negativa c'è pure l'aria negativa perché c'è l'aria negativa qui vicino a me o io ho trovato una caverna vicino a me casa mia come ti picchio non ho una spada non ho una spada no 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 allora allora esci qua perfetto vai zombie stupido dai zombie stupido ti prendo a pollate ti prendo mi ha dato fuoco figlio di buona donna che fa crepi o vuoi un bacetto per morire non muore che fa crepi o non vuoi crepare eh ma lo zaino ragazzi non può perché non c'è non troviamo la pelle la pelle la pelle mi serve la pelle senza pelle ragazzi non faccio nulla e non ci sono mucche però dopo il generatore puoi farlo ah no non lo puoi fare allora no scusatemi un attimo no ragazzi io credo che avevo detto che avremmo parlato su skype per un fatto del live buono mi ricordo comunque va lascia aperto poi ne parliamo cosa vuoi allora ok devo posare sta cosa il cervello la terra la terra mamma mia bello sistemato quanto amo posare le cose in modo sistemato allora la gomma non mi serve sta legna non mi serve il mirtillo me lo mangio ok voi direte a tutti ma avevi la fame piena lo so mi dava fastidio avercelo allora il piccone ce lo portiamo tepo premi un po' f7 premi un po' f7 che cazzo che cos'è allora f7 ti rileva dove possono spawnare i mob c'è ovunque eh si dovresti metterci le torce e mettendoci le torce scompare le x marius moderiamoci con le parole grazie ah ok c'è quindi capito qua mi possono spawnare i mob c'è dentro casa fantastico se tu infatti sposti la torcia non possono spawnare ok se io metto una torcia qua non possono spawnare incredibile che cagata che cagata cioè seriamente ragazzi scopro cose nuove ogni giorno si vabbè ma non è che posso stare qua a illuminare il mondo e perdonami eh lo so allora che cosa mi hai fatto premere f7 dai dormi si f7 ok perfetto l'ho levato si l'ho levato allora va bene bagionate a parte bagionate a parte e poi arrivo subito si si fai 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 faccio una telefonata allora vediamo io mi devo fare nel mento una spada una spada una spada carne carne una spada mi serve del ferro io avevo un botto di ferro mi ricordo avevo però eh dov'è avevo un casino di ferro qua uno dov'è il ferro ah tutto qua fantastico allora facciamo uno due tre facciamo otto sedici si due pezzi di carbone ok facciamo mettiamo uno e dos magari dividiamo perdonami devo sta cosa mettiamo qua ok devo sta cosa mettiamo qua perfetto perfetto ragazzi ricordo a tutti che un blocco c'è un blocco scusatemi un pezzo di carbone per chi non lo sapesse cuoce otto otto cose perciò per chi non lo sapesse ripeto ora lo sa allora ancora il whisper ma dai ma dai mi fai craftare sta merda di spada che non ho la legna gli sticchietti mi manca sempre della roba no veramente ragazzi whisper di merda whisper di merda allora uno due e uno prendiamo la spada e cerchiamo sto merda di whisper dove sei dove sei schifoso dove sei ok perfetto le torce le ho no 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 le torce perché devo fare sempre avanti e indietro devo andare in caverna raccogliere il diamonte allora io questa mano me la porto che mi può tornare utile così casomai io uso la mano eeeh brrr vediamo 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 sto ferro lo uso per farmici le scarpe uno due uno due perfetto e già andiamo oh sei perfetto mi ci faccio un bellissimo elmetto ok così crepo il meno possibile perfetto ragazzi abbiamo pepo eeeh tutto blablato allora con questo ferro magari mi ci faccio eeeh che cosa niente lo possiamo ok ferro possiamo perfetto della carne la possiamo eeeh possiamo i polli ce li portiamo i sticchetti ce li portiamo prendiamo della legna perché sinceramente questa legna si può fare qualche cosa questa legna oh guarda eeeh guarda qua quanta legna fantastico ok ci portiamo uno stack di legna eeeh blablabla uno stack di legna allora piccone di legno lo portiamo cioè di pietra la cobblestone può sempre servire la pala l'abbiamo ok la mano la mettiamo qua il cibo lo mettiamo qua le torce servono le torce le torce le torce dovremmo avere qua del carbone yeah dovremmo avere degli perdonatemi ragazzi ma mi sta dando davvero fastidio sto whisper dove sei perché mi attacca e sparisce scendi scendi bastardo scendi scendi no 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 tu ora devi crepare mi devi dare la tua essenza scendi no 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 scendi 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 vuoi scendere whisper di merda scendi 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 guardalo come scappa guardalo guardalo si l'ho preso no 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 non l'ho preso non l'ho preso e dai ma dai guarda che bastardo è cresciuto l'albero di gomma dai ma vola vuoi crepare ma dai madonna madonna non vuole morire no seriamente ragazzi crepa crepa si l'ultimo colpo dai l'ultimo colpo l'ultimo colpo l'ultimo 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 guardate che comunque l'ho capito cioè da quanto ho capito lo devo fare stancare perché poi diventa rosso e cade ho notato oh che si sta scaricando no 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 è rosso è rosso è rosso dai ma dai ma dai che fa vuoi morire si vabbè il personaggio non mi corre vabbè guarda guarda lo potrei uccidere ma è il personaggio stupido e non mi corre crepa che fa vuoi morire dai la vuoi si vabbè mi mettono pure i buchi dai si si vabbè raga si vabbè ok ammazzarla è impossibile allora recuperiamoci di qua no raga lo devo ammazzare cioè seriamente mi sta dando un fastidio allucinante sto cazzo di coso si vabbè sopra l'acqua si guarda lo prendo è andato sott'acqua vabbè basta rimani lei non mi dai fastidio capito stai là allora ok posso andare in caverna per favore ah non ho concluso niente c'è due ore di live non ho concluso niente incredibile vabbè più o meno come tutta la cosa allora mh blu avrò consumato sicuramente tutta l'armatura bravo pepo a consumare gli oggetti riesco sempre allora ok facciamoci le torce ok portiamoci una bel carbone lo troviamo allora andiamo in caverna waypoint caverna teleport ciu chiaramente dice del ferro che vabbè il ferro volendo l'abbiamo andiamo a raccogliere il diamante invece allora mh allora qui c'era dell'acqua ok fantastico ok oh quarzo 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 raccogliamo anche il quarzo perfetto ragazzi dai no 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 voglio cominciare al più presto a fare materiali 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 allora il lapislazuli si lo posso raccogliere con il piccone di pietra ok cioè perfetto allora vorrei anche leggere un pochettino la chat ma in me non riesco cazzo cioè per leggere la chat dovrei mettere il gioco a icona ragazzi se metto il gioco a icona con la fortuna che mi ritrovo c'è io crepo piaceremo qualche torcia ok oh oro 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 tanto oro raccogli l'oro enderman ah beh c'ho l'armatura non mi fai paura non mi fai per niente paura muori schifoso dove sei due enderman tre enderman oh no 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 come tre 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 no 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 crepate Crepa, 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 cre Non lo capisco! Oddio! Ho paura ad uscire! Ok, ok. Mi ha salvato l'armatura in ferro! Mi ha salvato l'armatura in ferro! M'ha salvato, l'armatura in ferro Ah, rieccomi Chip, chip Che fatto, che fatto Ho lottato contro 3, 4, 5, 1000, 1000 Enderman Oh my god Sì, oh my battlefield Oddio Oddio No, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai Pure ragni di merda, si ci mettono pure ragni di merda Perché avvelenano Ma dai, ma dai No, Pepo, non morire, Pepo, Pepo Perché ci mette due ore a rigenerarsi i cuori Sto animale qua No, seriamente, ragazzi, voglio salire E uccidere e rompere quel dungeon Seriamente, mi sta dando un fastidio allucinante Allora, facciamo Uno, sì, vabbè, uno Sì, vabbè, uno, due, tre, quattro Sì, bravo, Pepo, mamma mia Pepo scalologo mi chiamavano Ok Allora, una spada ce l'ho, yes Sì, bravo, Pepo, incastrati Nelle ragnatele Che tu puoi Ok Allora Dov'è sto dungeon? Guarda quante ragnatele Dov'è il dungeon? Scusatemi, eh No, ecco, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Rompiamole tutte, rompiamole tutte Rompiamole tutte, ragazzi Rompiamole tutte No, 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 no Ma poi i ragni velenosi mi vanno a capitare Cioè, capito? Non mi capitano i ragni quelli che non rompono le palle No, quelli velenosi Però mettiamoci delle torce prima che spawnano Sì, va bene Mettiamoci delle torce magari Lascialo Ok, c'ho questo Grandioso Ok, fantastico Ma a me mi piace da morire Questa mano è fantastica Ok, rompiamo sta torce e mettiamola qua Perfetto Allora, vediamo, 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 vediamo Magari Oh, sono nelle miniere Mi fanno male Sì, mi fanno male Siamo il piccone di pietra Ok Così Come si chiamano? Le force Sì, 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 li ho visti, li ho visti No, però sto solo dando un'occhiata Così no, non è diamante questo qua Stavo per urlare tipo 8000 diamante Allora Oh, plutonio Che non posso raccogliere Ok E uranio Vabbè, plutonio, uranio Sempre radioattivo Allora Ferro, raccogliamo il ferro Il ferro serve Il ferro serve Allora Quanto vorrei avere il catalyst Seriamente, ragazzi Quanto mi manca Cos'è sta cosa? Ok Cos'è sta cosa? Tin, che? Oddio, stavo per urlare diamante Ok Ok, raccogliamo tutto Oh no Oh no Oh no Oh, guarda quanto Mamma mia, guarda Io trovo le miniere di oro ogni volta Fantastico Guarda quanto Cioè ogni volta ha capito l'oro per trovarlo Cioè improbabile E sculato Cioè guarda quanto Guarda Ancora continua Seriamente Seriamente no Fenomenale Fenomenale Fantastico Allora I binari Possono servire No, vero? No Ok Sento gli slime Oh, ferro Oh, guarda Ancora ferro Ovviamente Dio a Peppo Che va Nella casa Degli Enderman Ma perché devo andare Nella casa Degli Enderman Non c'è motivo Cioè mi vogliono Morto Ok Sì, vabbè Guarda C'è pure lo zombie Fullato Cioè guardate Guardate che è stupido Sei incastrato Mamma mia, guardate quanto è stupido Grande zombie Vai Tu sei Che sei uno zombie furbo Dov'è sto slime? Mi sta dando un fastidio Allucinante Dov'è? Sarà sopra Ah, là c'è un creeper Redstone Non l'ho presa la Redstone No, non l'ho presa Devo prendere tutti i materiali sotto Ma ho paura a scendere Che ci stanno i creeper Ma non vedete I creeper cadono dal cielo Questa me la tengo E me la vado a mettere poi in casa Allora Racchiamo la Redstone Mamma mia Eh, lo so Però non va su Agli Enderman Perché c'ho paura No, se ne mettono ragazzi Non voglio morire Perciò non è, no Allora Abbiamo ancora tanti blocchi Perciò tanta Redstone Tanta, tanta Redstone La possiamo fare Allora Diamante C'è io e mezz'ora Che tipo me la fissio qua Non mi fai paura Ora sono armato Ti prendo pure a cazzotti Una picconata Meglio le picconate Meglio le picconate Crepa Stai zitto Non puoi affrontare Pepo Prendiamo le Force Gem Devo ancora andare a prendere Io il Diamante Ora vado subito Le Force Gem guarda che ti servono Eh, sì, sì, sì Lo so, lo so, lo so Ora infatti Le vado a prendere sia L'acqua di merda Quanto odio l'acqua Ok, perfetto Prendiamo l'acqua Mettiamo delle torce Così evitiamo Lo spawn Di mob Allora Abbiamo troppato una borsa Rampone l'inventario Oddio è vero Oh Ho trovato il for Che ho trovato Va bene Ok ragazzi Poi la apro Cioè poi Fantastico Fantastico Ok Ora che se togli un oggetto Scompare Ah, quindi Non le devo togliere Gli oggetti No, no Sì, sì Le devi togliere Però se ne rimani uno Se ne rimane uno Di oggetto Rimane la borsa Ah, se la svuoto tutta Perdo la borsa Ok, ok, ok Sì Ok, io mentre raccolgo Pure quest'altro oro Ora vado a raccogliere Subito il Diamante Magari trovo tipo Nove blocchi di Diamante Ah Sì, certo Sicuramente capito Pepo, credici Davvero, Pepo Ci stai credendo No, perché se ci stai credendo Davvero sei stupido Che cazzo è sto blocco? Che cos'è? Ma io ne sei andata male Eh, il Zulfur mi pare Oh, lo Zulfo Guarda, sono pieno di frecce Nel cervello Nei piedi Nella schiena Sotto le ascelle Incredibile Eh, boh Cosa butto? Eh, posso buttare Nel Plutonio No, ecco L'Occhio di Ragno Che inutile Ok, raccogliamo qua La Redstone Può sempre servire Ok Raccogliamo tutta la Redstone Eh, boh Allora Da questo lato C'è il Diamante Allora, aspettate Un attimo E mi faccio una strada Secondaria Perché davvero ragazzi Cioè, ci manca solo Che correndo Vado a cadere nella lava Ok No, perché ragazzi Guarda Io sono in grado Cioè, io riesco No, nella borsa Non può mettere Non ci può mettere più gli oggetti Sì, non ci posso mettere gli oggetti Nella borsa Stavo urlando Madonna Cioè, stanno sempre in precinto Di urlare Diamante Ok Raccogli Fantastico Allora Dov'era il Diamante? Dov'era? Era qua Non c'è Era qua Ah, era sopra forse Ecco Sì, infatti era sopra Allora, ma come salgo sopra? Come ci salgo? Come ero salito prima? Dalla sopra forse? Va bene Facciamo una Buona Vecchia Maniera Si dicono Di andare A svuotare A mettere il white point E andare a svuotare Blah Blah Andarti a svuotare l'inventario Sì, ma io sto Io sto facendo un qualche cosa Per chiudermi meglio Mi dovrei fare Mi dovrei fare davvero una Che bella è sta mano Mamma Mi piace un casino Oh, Diamante Ah, sì, vabbè Stavo urlando Vabbè, sì Boom Mi pareva Diamante Stavoca 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 Grazie.